ciao ragazzi eccoci qua per un'altra delle nostre situazioni l'attore di oggi è alex valentini portiere di vicenza andiamo subito a vedere parte tutto da un calcio d'angolo guardate bene che grandissima parata di valentini e adesso ve la faccio rivedere e andiamo a analizzarla parte tutto da questa rispinta approssimativa il giocatore si coordina e tira valentini è stato bravissimo perché numero uno nel minor tempo possibile ha ricercato quella che era la posizione più corretta e l'assunta numero due è stato bravo nel mantenere il suo baricentro in avanti in maniera tale che ha permesso di fare quel passetto e questa spinta fondamentali per fare questa parata ricordate portieri nel momento in cui portate il bacino all'indietro e quindi volete parare con il culo a terra potrete essere solo fortunati ma non sicuramente bravi qua sotto ragazzi ci sono i cinque passaggi fondamentali per poter rifare questa parata io vi aspetto al prossimo video ciao